Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Corea Tartufo, che mi chiede di parlare del film del 2005 di Mike Mitchell, Skyhike, Scuola di Superpoteri. Scuola di Superpoteri dove troviamo delle vecchie glorie come Kurt Rasser, qui a fare praticamente il supereroe commander, il più forte di tutti, che insieme alla moglie Josie, ovvero Joostream, fanno parte appunto di questa famiglia che in questo mondo dove ormai i supereroi umani vivono e convivono normalmente, insomma, i nostri fanno finta di essere agenti immobiliari e danno un figlio, praticamente che dovrà andare appunto a questa Skyhike, perché all'età per riuscire ad andare finalmente in questa scuola di supereroi. Il figlio nasconde che non ha ancora un superpotere e vi ha mandato in questa scuola, una scuola in realtà classista dove si decide chi è eroe e chi è spalla. In tutto questo chiaramente Kurt Rasser, che interpreta commander e la sua moglie Josie, interpretata una splendida Kelly Presto, sono felicissimi, sono vinti chissà cosa possa succedere. In realtà quando arriva su un grandissimo Bruce Campbell, tra l'altro, il ruolo di coach boomer, sonic boomer, praticamente devi decidere di metterlo da una parte in mezzo alle spalle e quindi non essere assolutamente un eroe perché non ha poteri. Di lì il nostro fa l'amicizia con altre spalle, praticamente, che però si troveranno in una condizione di dover salvare praticamente tutti, perché un cattivone ha fatto in modo che praticamente tutti i supereroi, non vi dico come, fossero immobilizzati, diventassero qualcosa che non potesse combattere e quindi sono rimasti solo i nostri, praticamente, che devono riuscire a non far cadere la Sky Egg in mezzo al pianeta e soprattutto a non far diventare, insomma, il piano del cattivone e cattivona qualcosa di indicibile verso l'umanità. In tutto questo i toni però sono molto allegri e leggeri, non si tocca mai la drammaticità nemmeno epica, ad un certo punto di quel capolavoro che erano gli incredibili, ma la Disney probabilmente seguendo un certo tipo di sistema di quel tipo crea appunto una famiglia di supereroi e in tutto questo si mette di fronte appunto Will, Will come protagonista unico, intertunato anche Benino da Michael Langarano che qui appunto interpreta questo ragazzo che ha voglia di fare le cose ma che in realtà inizia a farsi le amicizie e tutti gli altri spalle comunque sono ben scritti. Alla fine è un filmetto per ragazzi che non va mai a fondo appunto sulle difficoltà, ma però cerca in un certo senso di essere una teen comedy in un certo senso nello spazio ma che segue però le regole del teen comedy classico, quindi ci sono il bullo che in realtà poi non sarà bullo, il cattivo che sarà più buono e bello di tutti, la ragazza che sembra tanto ganza che tradirà e la ragazza invece bella che invece sarà anche intelligente, i due, tre che sembrano non servono a niente invece diventeranno forse più importanti degli eroi, quindi una specie di film sull'accettazione, chiaramente buonista, retorica con un finale un po' melassoso che però riesce indubbiamente a divertire sotto il punto di vista per un film per ragazzi, nonostante si ripeta si raggiunge sempre questa idea, un certo tipo di sogno americano che però ogni tanto viene spezzato, ripeto, l'apporto dentro la scuola fra i ricchi, fra i grossi e i piccoli è veramente interessante, questo rapporto classista era molto più interessante e doveva essere portato più avanti, i colpi di scena chiaramente per una persona adulta sono abbastanza telefonati ma gli effetti speciali sono ottimi, la regia del nostro Mitchell fa il suo per un classico filmetto che comunque si porta a casa abbastanza volentieri, ripeto, nel suo lavorare all'interno di un genere che all'epoca comunque si parla di quasi vent'anni fa non era nemmeno quasi codificato come adesso, era uno tipo X-Man, uno Spider-Man, così un Blade, qualcosina così a caso un Hellboy, ma non si stava ancora definendo però visto il successo e l'incredibile Disney portò avanti anche con un live action, questo tipo di idea appunto della famiglia di supereroa che qui non è in disagio, non è in distruzione, ma che è la distruzione appunto del figlio che non ha poteri e poi c'è questa logica di dover per forza averli che un po' mi sta sul cazzo insomma il film comunque brutto non è, è un classico film medio che si guarda e si dimentica che comunque ha una buona tecnica nella mano, ha dei buoni attori, ripeto, c'è anche una splendida Frau Blucher che fa specs, la mitica Cloris Leckman, senza nemmilcare che il Presidente Powers è la grandissima Linda Carter e la vecchia Wonder Woman, tutto questo per cercare di legare qualcosa che il regista voleva legare appunto ai suoi quattro personaggi preferiti che erano appunto questi, Diana Plinsky e via dicendo. Per un film ripeto che comunque ha qualcosina da dire, niente di che, nonostante si sappia che si sta guardando di qualcosa che è molto schematico, che segue determinate cose, che però fortunatamente all'interno ogni tanto due, tre le svia, ecco come la storia d'amore, qualcosa che diventano qualcosa di un pochino più particolare. Proprio per un film che vuole dare una moralina classica finale, siamo tutti degli eroi, che è proprio disneyano, nel cuore che invece ho mal sopportato, dico in quel senso, però insomma il film alla fin fine si lascia guardare e non è tempo aperto, è sempre che abbiate i supereroi, è sempre che vi garba la roba Disney, è sempre che come me vi fasciate prende, in questo caso in effetto nostalgia da tre, quattro personaggi che io adoravo e che ritornano in questo film e che comunque, ripeto, per essere un film disney del periodo, batte praticamente tutti i film disney di questo periodo, pur non essendo niente di che. Ma il link lo metto qua sotto, donate sul Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante del super, grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia, lo ripeto, questo Skyhike è un film non malvagio, un film per ragazzi gradevole, non va più su di lì, però si riesce insomma a guardare senza procurare danni al proprio cervello né il tanto meno a quello del ragazzino che si divertirà come un pazzo.